È legittima l'istituzione da parte dello Stato dell'autorità portuale dello Stretto di Messina che mantiene le competenze sui porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale. La pronuncia è contenuta nella sentenza numero 208 depositata dal relatore, il vicepresidente Giuliano Amato, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Calabria che contestava in particolare la competenza dell'autorità con sede a Messina sui porti di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria. L'istituzione di una nuova autorità con sede a Messina è comprensiva anche dei due porti calabresi. Non può essere considerata, spiega un comunicato della Corte, neppure irragionevole per le possibili interferenze con la disciplina della zona economica speciale ZES della Calabria. Non si può infatti sostenere, come fa invece la Regione Calabria, che l'unica soluzione costituzionalmente legittima sia la coincidenza tra le circoscrizioni territoriali dell'autorità di sistema portuale e quelle della ZES, poiché il legislatore ha regolato espressamente i casi in cui taluni dei porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'autorità con sede in altra Regione, come appunto in questo caso.